Marco Mazzoli, chi è? Stefania Pittaluga, la moglie del vincitore dell'Isola dei Famosi Marco Mazzoli è il vincitore di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il favorito del pubblico alla fine ha vinto, sfidando uno dopo l'altro tutti gli altri concorrenti rimasti in gara. Marco ha quindi trionfato ed ora aumentano le curiosità su di lui, e sulla sua vita privata. Tanti si stanno facendo delle domande in particolare su sua moglie Stefania Pittaluga. Ebbene, la Pittaluga ha 49 anni ed è originaria di Milano. Ha seguito una carriera diversa rispetto a quella del marito, infatti si è diplomata al liceo linguistico e successivamente ha trovato lavoro presso uno showroom a Parigi e a Milano. E' diventata poi anche responsabile commerciale di un altro salone di moda molto importante. Dal 2012, poi, ha iniziato il suo lavoro di marketing director, occupandosi di comunicazione, marketing e pubblicità, che poi è stata la sua strada ed anche il suo lavoro attuale. Alla fine è diventata anche direttrice artistica di DeZoo, il programma radiofonico, ed infine è diventata anche direttrice del digital marketing di una radio che gestisce dall'estero, dove attualmente vive. Da ormai diversi anni la relazione con Marco Mazzoli va a gonfie vele ed è diventata, ora, molto chiacchierata ed apprezzata dopo la vittoria del concorrente. Marco Mazzoli, la storia d'amore con la moglie Stefania Pittaluga Il fondatore dello zoo di 105 Marco Mazzoli, ha una relazione ormai da diversi anni con Stefania Pittaluga. Il loro amore va benissimo e i due hanno deciso di viverlo fuori dall'Italia. Infatti si sono spostati a Miami, dove entrambi lavorano in smartworking per portare avanti i rispettivi ruoli in Italia. Nel corso di questi anni di relazione i due non hanno mai avuto figli, ma non è chiaro se si tratti di una scelta da parte della coppia oppure no. Secondo i gossip prima della partenza di Mazzoli, Stefania sarebbe stata preoccupata all'idea della partecipazione del marito all'isola dei famosi, ma ovviamente adesso si ha risolto tutto per il meglio. Stefania ama i cani e ne ha adottati due, che porta sempre con sé e che vivono con tutti loro a Miami. Un'altra passione importante nella vita della moglie di Mazzoli sono le lingue. Infatti parla perfettamente il francese e le piacerebbe impararne anche altre. Sul suo profilo Instagram ama mostrare degli scatti della sua vita privata, in cui è in compagnia dei suoi amati animali e di suo marito, nella loro bella casa di Miami. Voi che cosa ne pensate? Siete felici che Marco Mazzoli abbia vinto, e vi piace questa coppia oppure no? A voi i commenti! Al prossimo episodio